ChatGPT è uno strumento di intelligenza artificiale che può essere utilizzato da chiunque e del quale se ne sta parlando molto in tutto il mondo. I casi di utilizzo di questo tool sono molteplici. Creare dei peri video, scrivere articoli, creare riassunti e magari anche rispondere a delle domande. Ma tra le altre centinaia di possibilità su come utilizzarlo, siamo su un canale che parla di blockchain, NFT e tutto ciò che ne consegue. Vuoi che non si possa utilizzare per creare qualcosa anche nel mondo del web 3.0? E infatti in questo video vedremo come creare con ChatGPT un'applicazione web che una volta inserito un indirizzo Ethereum ci mostri tutti gli NFT posseduti da quest'indirizzo. Per prima cosa recatevi sul sito di OpenAI che io vi lascio qui sotto in descrizione. Dopodiché cliccate qui in alto sulla scritta Try. Una volta cliccato se non avete un account vi chiederà di registrarvi. Una volta registrato il vostro account cliccate sul pulsante di login e vi apparirà questa schermata. Tenete conto che ultimamente il sito è molto trafficato e quindi a volte potreste non essere in grado di accedervi e ogni tanto appaiono anche dei banner che dicono di star lavorando appunto su questo problema. Comunque voi riprovate e poi dovrebbe aprirvelo. Per iniziare una conversazione con ChatGPT basterà andare in questa parte della schermata dove è possibile scrivere e appunto iniziare a farlo. Tenete conto che conosce parecchie lingue infatti possiamo scrivere in italiano come volendo possiamo scrivere anche in inglese. Però personalmente per creare del codice io preferisco sempre parlare in inglese sia per essere più preciso io nel fare le domande ma anche per ricevere delle risposte più precise da ChatGPT. Proviamo a chiedere a ChatGPT se può creare un'applicazione HTML. Vediamo come la risposta è positiva quindi io procedo a chiedere se può creare un'applicazione HTML che permetta ad un utente di inserire un indirizzo Ethereum e l'applicazione dovrà far vedere tutti gli NFT posseduti da questo address specifico utilizzando le API di OpenSea. Dovete sapere infatti che tra le varie API che OpenSea fornisce ai developer ce n'è anche una che permette di vedere gli NFT posseduti da un indirizzo. Vediamo però come se la cava ChatGPT ad utilizzare questa API e ad inserirla in un'interfaccia grafica. E una volta che ha finito vediamo come ci fornisce anche delle informazioni sull'utilizzo. Per testarne l'utilizzo io ho appena creato una partizione lavoro dove all'interno andrò a aggiungere una nuova cartella che chiamerò AI, Artificial Intelligence. Una volta creata la cartella apriamo un editor di codice. Io utilizzo sempre Visual Studio Code. Una volta aperto clicchiamo su File, Open Folder e andiamo a cercare la cartella AI. Facciamo doppio clic e mettiamo Seleziona Cartella. Una volta fatto facciamo tasto destro in questa zona, Nuovo File e lo chiamiamo Index.html. Adesso che abbiamo creato questo file torniamo qui su ChatGPT e facciamo Copy Code. Una volta copiato torniamo su Visual Studio Code e lo incolliamo all'interno del nostro Index.html. Adesso per vedere se questo codice funziona davvero andiamo su Extension e cercate Live Server. Come potete vedere io l'ho già installato però voi dovrete cliccare su questo Live Server e cliccare qui dove ci sarà scritto Installa. Una volta installato per tornare indietro cliccate su questa icona. Aspettate che ingrandisco un po'. E una volta tornato su questa schermata facciamo tasto destro su Index.html e poi Open with Live Server. Vedete come vi aprirà una schermata nel browser e dovrebbe essere all'incirca come questa. Tenete conto però che ChatGPT ogni volta che iniziate una conversazione sarà sempre diversa. Ci sarà sempre qualche piccola differenza. Quindi anche se voi doveste utilizzare le mie stesse identiche parole l'applicazione potrebbe essere diversa sia nell'aspetto estetico ma anche nel funzionamento. Per vedere se questo programma funziona adesso in una nuova schermata io apro OpenSea. Apriamo una collezione a caso come qui sotto Bored Ape Kennel Club e clicchiamo su un NFT a caso come può essere questo. Vediamo come è posseduto da Joy NFT. Clicco sul suo nome in modo che da questa schermata io possa fare qui copy del suo indirizzo. E vediamo come qui sotto c'è già una panoramica degli NFT che possiede Joy. Quindi io adesso torno su in My NFT App e qui dove c'è scritto Ethereum Address faccio incolla di questo indirizzo. Poi clicco su Submit. Vediamo come qualcosa non funziona. Infatti gli NFT non si vedono. Quindi torno su ChatGPT e scrivo che gli NFT non si vedono. Visto che non ha funzionato provo a copiare di nuovo la domanda e a porgli la stessa perché come vi ho detto ogni volta elabora una risposta diversa. E adesso che ci ha fornito questo codice facciamo Copy Code torniamo su Visual Studio Code facciamo Ctrl A e adesso eliminiamo il codice vecchio per fare Ctrl V del codice nuovo. e vediamo se inserendo lo stesso indirizzo e cliccando su Submit cambia qualcosa. Ho provato per la terza volta a richiedere a ChatGPT se potesse crearmi questa applicazione. Inizialmente a differenza delle altre due la sua risposta è stata semplicemente testuale in cui mi spiegava come fare. Quindi io gli ho fatto successivamente un'altra domanda Can you provide me some basic code? E vediamo come a differenza delle altre due volte mi ha fornito l'HTML, il JavaScript e il CSS in tre schermate diverse mentre prima c'era solamente una sola pagina HTML che al suo interno includeva anche il JavaScript mentre il CSS non era proprio fornito. Per verificare se adesso tutto funziona correttamente clicco copy code dell'HTML torno su Visual Studio Code elimino il codice precedente faccio Ctrl V e salvo. Adesso però non c'è il JavaScript e nemmeno il CSS all'interno del file HTML infatti vediamo come si rifà al file styles.css e script.js per avere appunto CSS e JavaScript quindi qui in questa schermata facciamo tasto destro new file lo chiamiamo styles.css e all'interno di questa schermata dovremmo andare ad incollare quello che si trova qui in CSS facciamo copy code torniamo su Visual Studio Code e facciamo Ctrl V o Command V se siete su Mac mi raccomando salvate e poi facciamo tasto destro new file e lo chiamiamo script.js una volta fatto torniamo di nuovo nel browser e dove c'è il JavaScript facciamo copy code quindi adesso torno su Visual Studio Code e lo copio all'interno di script.js vediamo come adesso la schermata è differente da prima come vi dicevo non c'è nemmeno più il titolo ma c'è solamente questo Ethereum address con un campo dove inserire del testo e il tasto submit torniamo qui su Joy NFT copio nuovamente il suo indirizzo torno sulla mia app e una volta incollato il suo indirizzo clicco su submit vediamo come c'è stato un caricamento un po' più lento ma effettivamente degli NFT sono apparsi però non sono tutti infatti se torno qui su Joy NFT vediamo come questo Caddy è appunto riportato qui vediamo come anche questo pass se andiamo in NFT app è riportato eccolo qui sopra come molti altri questo Bored Ape per Adidas che vediamo anche qui però il Bored Ape che è nel club non è riportato però comunque anche se a parer mio le intelligenze artificiali ancora non possono sostituire il lavoro del programmatore in carne ed ossa questo CiaGPT ha comunque realizzato una buona fase di partenza di codice rispetto a quello che servirebbe a un programmatore tradizionale per scrivere quelle righe di codice c'è anche da dire che l'ho utilizzato per creare qualcosa di molto meno impegnativo e l'ha realizzato in pochissimo tempo in maniera molto più che accettabile ed anche per oggi è tutto io spero che questo video sul come utilizzare ChatGPT nel mondo del web 3.0 vi sia stato utile e se così fosse lasciate like iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi ulteriori video sempre inerenti a questo mondo e fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video su come utilizzare ChatGPT noi ci vediamo alla prossima ciao